Jacob & Co. Opera Godfather Minute Repeater, innovazione e design di eccellenza. Uno dei capolavori più eclatanti di Jacob & Co. è l'Opera Godfather Minute Repeater, un orologio che incarna la combinazione di ripetizioni minuti, tourbillon e carry-on. Questo straordinario pezzo è unico nel suo genere, essendo l'unico orologio a presentare questa serie di complicazioni. L'Opera Godfather Minute Repeater è un vero e proprio gioiello dell'arte orologera di Jacob & Co. Il design della cassa è aperto e arioso, con una maggiore presenza di zaffiro rispetto all'oro, permettendo una vista completa dell'elaborata architettura all'interno, pur mantenendo un aspetto pulito ed elegante. Questa struttura aperta migliora anche l'acustica della ripetizione minuti e del carry-on. Ma questo orologio non brilla solo per il design, ma anche per le sue caratteristiche tecniche uniche che lo differenziano dalla tradizionale alta orologeria. La caratteristica principale dell'Opera Godfather Minute Repeater è il suo carry-on, un componente raro nell'orologeria moderna. Per comprendere appieno questa rarità, è interessante esaminare la storia del carry-on. Un carry-on è caratterizzato da un cilindro con perni che ruotano e pizzicano denti metallici per produrre suoni musicali. Questo concetto ha radici antiche, risalendo al XIV secolo quando fu utilizzato per la prima volta in un carry-on da torre in Francia. Tuttavia, fu nel XVIII secolo che il carry-on moderno con cilindro a perni fu sviluppato. L'orologiaio svizzero Antoine Favre Salomon brevettò il primo carry-on cilindrico, una configurazione che viene utilizzata ancora oggi. Nel XIX secolo, i carry-on divennero comuni nelle case, ma alla fine del secolo, con l'avvento della tecnologia come il fonografo e il grammofono, persero gradualmente popolarità. Oggi, pochi orologiai continuano a produrre orologi con carry-on e Jacob & Co. È uno di loro. L'opera Godfather Minute Repeater reintroduce il cilindro a perni tradizionale, ma con una caratteristica unica. Ha due gruppi di cilindri che consentono di riprodurre melodie anche quando l'orologio non è in funzione. L'attivazione del carry-on è resa possibile da una leva a forma di violino nascosta nel lato destro della cassa, fornendo al proprietario un'esperienza unica. Ma l'opera Godfather Minute Repeater offre molto di più del suo carry-on. Incorpora anche un tourbillon a tre assi, che è un'eccezione anche tra gli orologi di alta gamma. Un tourbillon è una caratteristica che mira a compensare gli effetti della gravità sulla precisione del movimento dell'orologio, ma in questo caso, il tourbillon è realizzato con tre assi che ruotano a velocità diverse. Questa complessità aggiuntiva contribuisce a rendere l'orologio un capolavoro di ingegneria orologera e design. L'opera Godfather rappresenta un'eccellenza nell'arte orologera moderna e incarna l'audacia di Jacob & Co. Nel plasmare il futuro dell'orologeria. Grazie Grazie a tutti